Allora ben ritrovati con Vera Mattina, abbiamo due collegamenti per andare sui territori. La nostra Donatella Lappa che dovrebbe aver raggiunto proprio il luogo dove si è verificato ieri sera l'incidente costato la vita ad un 21enne di Mogliano. Dall'altro a Iesi parlando di giovanissimi, purtroppo in chiave violenta. Il nostro Sergio Cinquino che ci parlerà appunto degli effetti di questa baby gang. Però vorrei dare la precedenza Sergio Donatella a te Donatella Lappa che sei nel Fermano. Sì Stefania grazie perché poi tra l'altro mi trovo anche in mezzo alla strada. Qui adesso è arrivata la polizia locale di Francavilladete perché come potete immaginare ci sono anche parecchie persone che sono venute qui nel luogo dell'incidente. Io mi trovo proprio nel punto in cui l'auto è uscita di strada. L'auto veniva da sopra, vi faccio vedere, la strada a monte. C'è questo pezzo di rettilineo, è andata a sbattere contro degli alberi circa 100 metri più su dal lato sinistro. Poi ha perso il controllo il conducente e l'auto è finita in strada proprio qui di lato a me. Purtroppo qui ci sono ancora i segni di quello che è successo oltre all'erba insomma che fa vedere dove l'auto è uscita di strada. Ci sono anche degli indumenti e c'è anche una parte di aspetto che ancora conserva il dramma che è successo qui. Federico Garulli, 21 anni, ha perso la vita. Qui lo conoscevano tutti, è arrivato anche un ragazzo, un amico. Il signore che è arrivato poco dopo l'impatto, conosceva il ragazzo, ha anche lui un figlio della stessa età. Quindi potete capire che questo dramma è davvero assurdo. Quello che si pensa è che chiaramente venendo in discesa dopo una curva l'auto, abbiano perso il controllo dell'auto. Quello che guidava non era la vittima, era un altro dei ragazzi. Il signore intervenuto ha proprio sentito, è arrivato con la prima ambulanza, ha sentito anche le grida degli altri occupanti che chiedevano aiuto, chiedevano di essere soccorsi attimi di un dramma che rimarrà indelebile nella mente di chi purtroppo si è trovato qui, ma anche di tutte le persone che stanno qui adesso, stamattina, che passano, disperate per quello che non sarebbe mai dovuto accadere. Un giorno di festa che finisce nel peggiore dei modi e proprio nel fiore degli anni, perché questi ragazzi avevano tutti quanti 21 anni, tutti quanti del 2003. Senti Donatella, quindi ci hai chiarito che la vittima non era il conducente della vettura, ma era trasportato, quanti erano a bordo dell'auto? Sì, era trasportato, ma la persona che è intervenuta, con la quale ho parlato, che però non vuole assolutamente parlare ai nostri microfoni, perché come potete immaginare è sconvolta, mi ha detto che purtroppo Federico giaceva qui, a pochi metri dietro di me, ci sono ancora i segni dove stava il suo corpo e era stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre l'auto ha finito la corsa nel postato qui sotto e quando sono intervenuti, l'unica cosa che la persona ha visto è che cercavano di tagliare gli abiti per poterlo rianimare, ma molto probabilmente già il ragazzo era morto nell'impatto e non c'è stato assolutamente nulla da fare da parte dei soccorritori che comunque si sono prodigati in tutti i modi per cercare di aiutarlo e di salvargli la vita. È stato sbalzato dopo l'impatto contro gli alberi che si trovano dall'altro lato della strada, la macchina è andata contro quelle piante, ha perso il controllo, probabilmente si è già ribaltata e quindi è finita nel postato dopo una corsa assurda fatta dal lato sinistro per finire sul lato destro. Il corpo di Federico giaceva proprio al lato della strada dove mi trovo io qualche metro più su. Una tragedia immensa, immensa. Ci stringiamo infatti attorno a questa famiglia, grande apprezzione anche per le condizioni dei ragazzi che sono rimasti feriti, di cui uno, se non sbaglio, Donatella, è in gravi condizioni, in condizioni serie? Sì, in condizioni molto serie, ci sono tante famiglie in apprezzione e per quanto riguarda Federico, un'altra nota terribile, quello che abbiamo appena raccontato non bastasse, Federico era anche figlio unico. Donatella, immagino che tu incontrerai tra poco anche il sindaco perché insomma è una comunità che viene travolta da questa tragedia, da questo dramma infinito. Sì, sto per andare dal sindaco di Mogliano che era in riunione, quindi tra poco mi riceverà e dalle sue parole nel telegiornale delle 13.25 e ascolteremo insomma quello che è il messaggio del primo cittadino per un dramma che non trova assolutamente parole. Assolutamente, assolutamente. Noi però dobbiamo trovarle per dovere di cronaca, per raccontare quel che accade e che non vorremmo mai avvenisse, specie nei giorni di festa, come quelli appena trascorsi. Era una comitiva di ragazzi che stava insomma trascorrendo una serata insieme, una serata come tante di festa ovviamente perché è legata a quella festa del lunedì dell'Angelo e quindi invece si è tramutata in un incubo. Donatella, noi ci salutiamo, ti lasciamo al tuo lavoro che prosegue proprio per poi restituirci quelle che saranno le parole del primo cittadino su questo dramma che è avvenuto sulle strade del Fermano proprio nel giorno di Pasquetta, una Pasquetta macchiata dal sangue. Grazie, grazie alla nostra Donatella Lappa. Io qui da Francavilla-Dete vi restituisco la linea e buon punto di trasmissione. Grazie, continuiamo a parlare di giovani, giovanissimi, quando si parla di baby gang e purtroppo insomma vengono fatti di violenza che scuotono poi le comunità locali. Per questo siamo a Iesi con il nostro Sergio Cinquino che può farci il punto. Buongiorno Sergio. Buongiorno Stefania, buongiorno ai nostri telespettatori da Iesi qui nei giardini appunto di Iesi dove da ieri praticamente c'è stata anche venerdì sera c'è stata una aggressione, una pesante aggressione a due giovani, due ragazzi del territorio, sono stati aggrediti da dei coetanei e uno ha riportato un problema, un problema allo zigomo e l'altro ha avuto anche lui un problema allo zigomo. Questo è un fenomeno piuttosto diffuso in questi giorni, anche in questa zona, tra le altre cose a Santa Maria Nuova, ieri è stato un lunedì di Pasqua qui a 5 km circa da Iesi, è stato un lunedì di Pasqua piuttosto drammatico con un'aggressione con coltello da parte di un gruppo di ragazzi in corso di una rissa e c'è stata questa pesante aggressione, il ragazzo un 13enne è stato poi portato all'ospedale Salesi di Ancona dove si trova ancora, adesso le sue condizioni sono buone, almeno lo erano fino a stamattina, comunque il problema resta, abbiamo anche sentito poi nel corso di questa mattinata delle persone anche sul territorio dello Iesino e molti hanno detto che effettivamente questo fenomeno c'è, così come anche in altre città d'Italia, quindi vedete alle mie spalle sono i giardini dove venerdì si è consumata questa aggressione, poi la denuncia da parte dei ragazzi che erano insieme a due fidanzatine, due compagne che erano presenti qui a Iesi e sicuramente c'è stata questa aggressione da parte di un branco, definiamolo così, di 6-7 ragazzi che comunque gli inquirenti avrebbero per la maggior parte già individuato, infatti c'è stata la denuncia da parte di uno dei ragazzi e poi ancora ieri, anche sempre nei giardinetti, però non questi di Via Cavallotti ma gli altri giardinetti di Iesi, c'è stato un tentativo di estorsione, insomma un quadro che non è dissimile da tante altre realtà di provincia, ma che comunque per il numero di episodi che cominciano a verificarsi diventa in parte preoccupante, questo è anche quello che abbiamo testimoniato da parte dei cittadini che dicono che effettivamente il fenomeno c'è, gira dell'alcol e spesso è anche questo a creare dei problemi, i genitori preoccupati anche per l'incolumità dei propri figli, tre episodi nello Iesino nel giro di 48 ore, altri ce ne erano stati a scorsa settimana, sempre qui nei giardinetti di Via Cavallotti, insomma un quadro che non tranquillizza soprattutto i genitori, i ragazzi adolescenti, 13 anni e 14 anni che sono stati anche vittima di aggressioni o come il caso di Santa Maria Noe, in quel caso un ragazzo 13 anni che è stato addirittura accoltellato. Infatti qui vediamo proprio le pagine dei quotidiani, siamo sul Corriere Adriatico che ci racconta stamane proprio ciò che ci stavi raccontando tu Sergio, approfondendo poi le stesse notizie, ma si pensa sia, si tratti della stessa baby gang? Cioè gli stessi bulli? Guarda, sono due situazioni diverse, la situazione è nello Iesi, qui sul territorio, in particolare questa zona che vedete inquadrata alle mie spalle, quella dei giardini di Via Cavallotti e poi invece nell'altro episodio ha riguardato un'aggressione a un ragazzo di colore che poi è stato portato all'ospedale Salesi e che comunque non dovrebbe riguardare lo stesso gruppo, anzi sicuramente non riguarda lo stesso gruppo di persone, a conferma comunque di un fenomeno sociale piuttosto diffuso. È preoccupante e difficile anche da arginare. Grazie Sergio, grazie Sergio Cinquino, salutiamo il collega da Iesi che ci parlava proprio di questa escalation di violenza che si registra nel territorio, ve lo abbiamo raccontato proprio sul posto dai luoghi in cui si è consumata la violenza, un episodio dopo l'altro, sembra che tra l'altro si stringa il cerchio intorno a questi ragazzini violenti perché ovviamente vanno avanti le indagini dei carabinieri, c'è un'altra estorsione, mezzo branco dei giardini ha un volto e peraltro il giornale ci mostra lo strappo riferito alla notizia precedente avvenuta, l'aggressione avvenuta sabato. Dunque è stata una puntata come avete potuto notare insomma ricca di notizie di cronaca, Pasqua e Pasquetta caratterizzate seppur dal tempo incerto comunque da un buon numero di turisti nel territorio marchigiano, una partenza che lascia presagire anche un buon trend per la stagione turistica purtroppo però sono state anche una Pasqua e una Pasquetta macchiate dal sangue, due i principali fatti di cronaca che abbiamo trattato e approfondito, l'omicidio avvenuto a Corridonia per mano di un 86enne che in preda alla disperazione ha esploso due colpi di fucile uccidendo sua moglie, la donna coetanea era malata di Alzheimer e poi ha tentato il suicidio sparando su di sé un colpo all'addome e si trova ora l'uomo ricoverato al Torrette nel reparto di rianimazione dove sono anche stati ricoverati sempre all'ospedale Torrette i tre giovani che viaggiavano a bordo dell'auto che si è schiantata a Francavilla-Dete su questa strada è andata praticamente fuori la carreggiata, i giovani hanno perso il giovane che era la guida ha perso il controllo del mezzo per cause al vaglio ovviamente dei carabinieri e ha sfondato la barriera degli alberi che erano proprio a bordo, ai margini scusate della carreggiata andando a finire in un fossato, un incidente avvenuto nella sera di Pasquetta che vi abbiamo ampiamente raccontato e che è costato la vita ad un 21enne di Mogliano, tante le persone che questa mattina sono andate sul posto e la nostra Donatella Lappa ce lo ha raccontato, la quale sentirà anche il sindaco di Mogliano su questa immane tragedia per la quale l'intera comunità è ancora sotto shock e quindi tornando sui quotidiani vorremmo anche chiudere con quelle che sono le notizie di oggi per chiudere il cerchio e quindi lasciando da parte la cronaca l'esito, il bilancio di queste feste appena trascorse per le marche che fanno registrare il boom di presenze e di prenotazioni anche all'interno degli alberghi il turismo vola, test dunque superato nel Ponte Pasquale da Porto Novo al Conero lanciati verso il clou della stagione, un brand unico per essere al top e un'area basta di eventi del resto ve lo abbiamo raccontato anche attraverso quella che è stata la presentazione della legge Marche Terra di Benessere che si basa proprio su queste agevolazioni riservate alle imprese del territorio per restituire appunto una regione migliore che si basa proprio sulla ricerca del benessere a 360 gradi sia per chi vive nelle Marche che per chi visita questo territorio e magari fa proprio una scelta di vita e sceglie di restare qui, di trasferirsi qui. E allora vedete l'accoglienza che lascia registrare, fa registrare il tutto esaurito Pasqua boom, test superato alberghi pieni, quelli aperti, questa precisazione tra le due parentesi apre un capitolo perché si parla molto di bassa stagione, del fatto di cercare di garantire un turismo tutto l'anno scatta la volata per l'estate, assalto in riviera nonostante il meteo oggi è una bella giornata, splende il sole ma ieri insomma il tempo era incerto, premiate dunque le attività già ripartite, gli operatori parlano di ottima affluenza, ora pensiamo a 25 aprile e 1 maggio che saranno i prossimi test per l'estate, tempo permettendo ovviamente tante prenotazioni dagli stranieri alcune fatte già da dicembre. Nel 2013 invece, guardate, facciamo un passo indietro l'anno precedente, fu l'anno nefasto da ricordare, soprattutto tra maggio e giugno quando il maltempo flagellò il litorale, i fanghi delle alluvioni in Emilia Romagna intorbidì le acque delle nostre coste, invece una situazione totalmente diversa. La stagione delle crociere scatta venerdì con MSC Lirica, arrivo alle 13, partenza alle 20 la sfida però qual è? È quella di ovviamente trattenere i visitatori. E poi abbiamo le parole di Pierpaoli della Confartigianato, bene la tripletta di Pasqua estate al top con Brand Unico e un'area vasta per gli eventi. Il 19 e 20 aprile torneremo in campo con Food and Drink. Queste insomma le notizie con poi quella che è la cronaca cittadina su Ancona e ovviamente tutta la cronaca che vi abbiamo raccontato. Abbiamo poi, vorremmo chiudere con questa notizia che arriva da Tolentino e che riguarda la Pasqua di Traini, Luca Traini. Lo ricorderete senz'altro, sta scontando una condanna a 12 anni per strage con l'aggravante dell'odio razziale per quel folle gesto compiuto a macerata nato, come aveva detto lui stesso, leggo testualmente sul Corriere Adriatico in seguito al massacro di Pamela Mastropietro, uccisa a 18 anni dal nigeriano Innosento Segale. Quel Luca si curano i suoi familiari, fa però parte del passato e il suo impegno nel carcere di Barcaglione dove scrive poesie, studia con buoni profitti all'Università Agraria, lo dimostrano, è anche per questo che si fanno sempre più frequenti i permessi. Condannato a 12 anni voleva vendicare Pamela e quel folle gesto risale al 3 febbraio del 2018 quando ferì sei neri e questa è proprio una delle vetrine colpite durante la sparatoria, una sparatoria che noi raccontammo all'epoca. E allora ci dobbiamo fermare, siamo alla sigla di chiusura, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi con Vera Mattina che ritorna puntuale domani alle 9, sempre in diretta, tanti collegamenti, interviste e ospiti in studio per tutto l'approfondimento delle notizie, i fatti del giorno. Vi lasciamo con una nuova puntata di Portami a Ballare, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.